Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo podcast dedicato a Gmail. Oggi parliamo di una funzionalità molto utile di Gmail che però non tutti conoscono, la possibilità di annullare l'invio di un'email appena spedita. A chi non è mai capitato di premere «Invio» e pentirsene subito dopo. Magari ci siamo accorti di un errore, o abbiamo mandato la mail sbagliata al destinatario sbagliato. Un vero incubo. Ma niente paura, Gmail ci viene in soccorso consentendoci di richiamare un messaggio appena inviato, evitando figuracce. Vediamo come funziona, dopo aver cliccato «Invio», abbiamo a disposizione pochi secondi per cambiare idea e bloccare il messaggio. Cliccando sulla freccia vicino al pulsante «Annulla invio», potremo riaprire la mail e modificarla prima di reinviarla nella sua versione corretta. Per configurare questa opzione e stabilire per quanti secondi rimane attiva, bisogna accedere alle impostazioni di Gmail e cercare la sezione dedicata all'annullamento invii. Qui potremo personalizzare il tempo a nostra disposizione secondo le nostre esigenze. Una funzione semplice ma salva vita per chi manda molte email per lavoro o per contatti personali e vuole essere sicuro di non inviare nulla per sbaglio. Provate a provarla e fateci sapere se vi è stata utile. Ora è tutto per questo podcast su come annullare l'invio delle email su Gmail. Alla prossima puntata con nuovi trucchi e consigli per sfruttare al meglio la vostra posta elettronica.